E' arrivata nella tarda serata di ieri la sentenza da parte del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, che doveva decidere sulle nuove tariffe dei servizi di rifezione scolastica deliberate dall'Aggiunta del Comune di Pistoia. La sentenza ha accolto il ricorso presentato dal Comitato dei Genitori Scelta Mensa contro gli aumenti che da 4,90 euro a pasto erano passati a 6,10 euro per ISEE superiore a 40.000 euro. Se da un lato siamo molto soddisfatti per la decisione del Tribunale, dice Luca Biagini del Comitato dei Genitori attraverso una nota, siamo invece molto preoccupati per l'incapacità amministrativa del Comune nella gestione e nelle scelte che applica. Stiamo inoltre valutando, si legge ancora nel documento, di consegnare tramite esposto alla Corte dei Conti, visto che con un atto risultato illegittimo si voleva incassare soldi a carico dei cittadini. Nel frattempo, dice infine il Comitato, il Comune pensi a restituire i soldi pagati in più in questi mesi da parte delle famiglie. È arrivata attraverso un comunicato dell'Ufficio Stampa il commento alla sentenza da parte del Comune di Pistoia. Rispetto alla pronuncia del Tarra sulle Mense, si legge nella nota, l'amministrazione fa sapere di accogliere la decisione serenamente e con tranquillità. Si attendeva infatti l'esito del ricorso senza alcuna apprezzione, consapevoli che non esisteva in merito una giurisprudenza chiara e consolidata a cui potersi riferire. L'obiettivo dell'amministrazione, ancora il commento del Comune di Pistoia, era semplicemente quello di applicare una tariffazione equa e ispirata a un principio di progressività del prelievo. La bontà di questo principio rimane ferma e verrà applicata in linea chiude il comunicato con quanto sarà prescritto dalla sentenza dopo una sua attenta analisi e studio. In pratica dovrà essere verificato se la sentenza avrà effetti retroattivi. In questo caso dovrà essere rimborsato. Chi ha pagato di più? Di contro il Comune dovrebbe chiedere le differenze non corrisposte per chi ha pagato di meno, un'eventualità che dall'ufficio stampa del sindaco fanno sapere che sperano di non dover percorrere. Vogliamo mantenere il principio per cui chi ha poco paga poco, chi ha di più paga di più, ribadisce l'amministrazione di Palazzo di Giano. Secondo quanto riportato da alcuni media, il Tarra ha annullato le nuove tariffe delle mense scolastiche fondando la sua decisione sulla differenza fra tasse e tariffe. Quelle delle mense sono tariffe per cui nessuno può pagare di più quanto costa effettivamente il servizio, stimato in circa 5 euro e 10.